un quartetto speciale bravi! bravi! geniali! ciao! è un vero piacere conoscerti! grazie di cuore per aver cresciuto un figlio straordinario! com'era da piccolo? oh! era un orsetto davvero carino! già da piccolo sapeva suonare il violino! oh wow! sapeva suonare anche la chitarra! facevate parte di un quartetto? ho l'impressione di aver fatto la domanda sbagliata! cosa? non vi siete mai esibiti? beh, visto che ora siete tutti qui, perché non suonate insieme in un quartetto? ho l'impressione di aver fatto la domanda sbagliata! Sì, evviva! Ed io sarò il vostro caloroso pubblico! Il vostro pubblico sarebbe felice di sentirvi suonare in un quartetto! Sì, è vero! Oh, mamma mia! E sarebbe questa la musica classica? Dovete solo cambiare un po' il vostro stile e poi suonerete magnificamente! A presto! ci sono dovete tornare alle vostre radici e ritrovare la vostra ispirazione la vostra ispirazione ricominciamo tutto da capo basta che seguiate i miei consigli professionali se gli amici non vanno d'accordo ed il suono diventa rumore perde il sole un po' del suo calore e la musica è un triste ricordo tutti noi ci dobbiamo ascoltare e seguire ritmo e melodia i giusti accordi che gioia suonare niente scherzi già a noi c'è armonia sempre così canterò la scala è quella di Do niente rispetti e niente scherzetti amici così canterò ancora la scala di Do sempre così canterò battiamo le mani cantiamo canzoni amici che bella armonia massaconcertista a a a a a a a Sì, sì, sì! A presto. Sai suonare così bene orso, però a me non insegni niente. Ti prego, insegnami subito a suonare. La cosa che amo di più è il pianoforte. Allora, dov'è il forte? Dov'è il piano? Caspita! Ma come ho fatto a vivere finora senza un piano? E come ho fatto a vivere finora senza musica? Ho deciso! Insegnami! Diventerò famosa molto presto! A che mi serve suonare le scale? Posso suonare improvvisando? Organizziamo un festival musicale! La cosa importante è inchinarsi con molta grazia! Oh! Oh, le scale! Non mi va di farle! Oh! Oh? 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 Hm? Hm? Ha! Ah! 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 Ha! Ha! Huh? Huh? Hm? Hm? Sì, 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 sì. 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 Sì, sì, sì.